Mario Lerario, sono il direttore regionale di protezione civile della regione Puglia. L'idea di realizzare la fabbrica di dispositivi nasce nel momento in cui a metà marzo ci si rende conto che sul territorio regionale ma anche su quello nazionale non erano presenti in alcun modo dispositivi di protezione. Purtroppo si è scoperto che la realizzazione di dispositivi di protezione si era in qualche modo concentrata in alcune regioni, soprattutto in Cina ma anche in altri paesi europei. Sul territorio regionale purtroppo non c'era alcuna produzione di dispositivi. In questo senso la regione nell'ambito del piano di contrasto alla pandemia ha posto in essere tutta una serie di iniziative per un verso finalizzate a rafforzare il tessuto produttivo sul territorio e quindi incoraggiare la produzione ma su altro versante ha cercato invece di realizzare qualcosa che potesse essere pienamente operativo soprattutto in periodi di grossa difficoltà. Quella che noi ci attendiamo non è la ricrudescenza della pandemia ed in questo senso la realizzazione della fabbrica si innesta non a contrasto con quelle che possono essere le strategie del mercato o la capacità di offerta del mercato. Questa fabbrica è una fabbrica che viene realizzata nell'ambito di un contesto di protezione civile ed è tesa ad entrare in produzione laddove il mercato non sia nelle condizioni di poter operare laddove il mercato non sia nelle condizioni di poter produrre dispositivi e di renderli concretamente disponibili. Questa è una situazione che è già stata realizzata nel corso del periodo di picco della pandemia per cui questa è un'iniziativa che è stata posta in essere per guardare avanti con una certa tranquillità, per guardare avanti sapendo che gli operatori ma non solo gli operatori del sistema sanitario, le aziende, il settore economico e sociale possa avere disponibilità di dispositivi di protezione. Questa azienda, questa fabbrica non è stata intesa per essere in concorrenza con le aziende del libero mercato. Questa fabbrica è stata realizzata e progettata per operare, per essere pienamente operativa solo nella condizione in cui il mercato non è nelle condizioni di fornire dispositivi di protezione. Questa fabbrica non è in concorrenza con il mercato, è una fabbrica che è stata realizzata per l'autoproduzione, per consentire che i settori vitali della sanità, pensiamo al 118, ma anche alla protezione civile, ma anche a quelle produzioni che non si sono fermate durante il lockdown, possano avere disponibilità di dispositivi di protezione per consentire che in situazioni di difficoltà si possa comunque continuare ad andare avanti e questo nel più ampio concetto della resilienza della protezione civile. La protezione civile regionale fa parte del sistema nazionale di protezione civile ed in questo senso ci sono stati contatti con il capo della protezione civile, il dottor Angelo Borrelli, ma anche con il commissario, il dottor Domenico Arcuri, per cui nel momento laddove si dovesse essere necessario estendere la produzione per renderla disponibile per la Puglia, ma anche per regioni limitrofe, ma anche per altre esigenze di carattere nazionale, sicuramente la produzione sarà resa disponibile per mettere in sicurezza l'intero sistema. Noi facciamo parte di un sistema paese, per cui quello che è emerso in modo così evidente è la cooperazione interistituzionale. Nel corso della pandemia, questa sarà una pandemia che sarà ricordata, a parte per gli esiti e per le criticità connesse alla pandemia, soprattutto per il ruolo istituzionale. Questa fabbrica nasce dalla cooperazione delle istituzioni, ci sono molte le imprese del territorio che hanno lavorato su questa fabbrica e la finalità di questa fabbrica è essenzialmente rendere disponibili materiali, prodotti che altrimenti non possano essere utilizzati. In questo senso la protezione civile nazionale si è adoperata in tutto il corso della pandemia, per cui questa fabbrica si inserisce nel sistema di protezione civile e potrà essere utilizzata laddove se ne ravvedono le necessità in relazione all'evolversi dell'epidemiologia della pandemia.